Ben trovati per la diciannovesima puntata di Cuore Biancorosso, ospiti in studio Davide Sentinelli, giocatore del Cuneo, e Nino Carnipo, giornalista, il quale vado a salutare. Buona serata a tutti. Buona serata. E grazie di essere qui presenti per commentare insieme queste due partite che dovevano essere un po' il fiore all'occhiello della nostra formazione, invece è venuto fuori un risultato poco felice di queste due partite e di conseguenza prendiamo quello che ci passa il convento. Bene, sono state due partite completamente diverse, due partite contro la Propatria che sicuramente abbiamo perso perché questi sono forti, perché noi non siamo più quelli che eravamo prima. Contro il Bellari invece potevamo assolutamente farcela bene, invece abbiamo perso per 3-1 dopo essere stati in vantaggio. Di questo ne parleremo tutta questa serata, ci saranno diversi servizi, interviste, diciamo subito che parleremo poco noi, ma faremo parlare le interviste, e poi commenteremo insieme sia a Davide che con Nino Calipo. Velocemente, allora Davide, domenica e mercoledì due giornate storte. Sì, diciamo due giornate no, che non ci aspettavamo sicuramente dopo aver ripreso dopo la sosta con la vittoria con il Lecco. Purtroppo nel calcio succede anche questo, da che eravamo lì attaccati alla prima, adesso ci troviamo un po' distaccati. Diciamo nulla è perso, il campionato è ancora lungo, ma sicuramente queste due sconfitte ci devono far riflettere. Allora, tant'è vero che poi ieri sera c'è stato anche il posticipo tra Propagio e Treviso, il Treviso è appareggiato sul campo di Bustarsizio, ha preso un punto, quindi è sempre dietro di noi, ha due punti, e insomma tutto questo fa sì che ci sia ancora dei momenti per cercare di risolvere questa situazione, che ricordo un momentaccio lo passano tutti quanti. Bisogna essere uniti, è qui che si vede l'unità sia della squadra che della dirigenza e dei tifosi, perché tanti mogugnano, però non bisogna mai dimenticare quanto sia stato fatto prima. Vero Nino? Ma sicuramente hanno fatto un giro in un'andata meravigliosa, forse qualche ramarico di qualche partita che praticamente sono stratageggiati o da errori arbitrali o da sfortuno, però ripeto, nel critico che si presentava adesso all'inizio, si pensava sicuramente che facessero più punti, cioè non dico 9 punti, ma almeno 6 o 7. Purtroppo, come dice giustamente Sentinieri, nel calcio succede anche questo. C'è solo il ramarico per domenica che per 40 minuti il Bellaria non si era visto, e per i 5 minuti di blackout abbiamo preso due gol che sono stati, diciamo, la nostra rovina e ha messo lo scoramento nella squadra. Sicuramente, allora se la regia è pronta andiamo con la grafica dei risultati, perché poi vedremo gli highlights in questo primo blocco dedicato proprio a quanto è successo contro la Propatria. Bene, risultati della settima di ritorno, Alessandria Rimini 2 a 1, Casale Giacomense 3 a 1, Cuneo Bellaria 1 a 3, Mantua Borgo Abugiano 2 a 3, Poggi Bonsileco 1 a 0, San Bonifacese Montichiari 0 a 1, San Marino Renate 4 a 1, Sant'Arcangelo Valenzano 2 a 0, Propatria Treviso 2 a 2. Per una classifica che vede, aspettiamo la grafica un attimo, intanto possiamo vedere che il Casale è solo al comando con 48 punti, Rimini 45, San Marino 43, Cuneo 42, Treviso 40, Virtusentella 39, Sant'Arcangelo e Poggi Bonsi 36, Renate 35, Alessandria Borgo Abugiano 33, Propatria 32, Bellaria 31, Savona 30, Mantua e Montichiari 28, Giacomense 27, San Bonifacese 24, Valenzana 15 e Lecco 14. Tutta questa classifica è un po' una classifica messa così, perché diverse formazioni hanno o due partite da recuperare o una, sarebbe troppo lungo elencarvi tutto quanto. Se siamo pronti con la regia direi di far partire subito i servizi e poi vedremo perché il primo servizio è stato curato da Gabriele De Stefani con Traxino Federico. Vediamo se sono pronti sia gli highlights che il servizio. Un Cuneo brutto come non mai quest'anno crolla sotto i colpi della Propatria, al contrario, bella e divertente. Peccato il recupero della quarta giornata di ritorno poteva rappresentare una invitante occasione per portarsi in testa alla classifica. Il Cuneo l'ha sprecata semplicemente senza scendere in campo e venendo preso a pallonate dagli imprendibili attaccanti ospiti. Approccio molle e passivo e ritmi bassi, così il Cuneo si è presentato sul terreno del Paschiero venendo travolto dall'esuberanza di una Propatria in gran forma che senza la penalizzazione di 13 punti lotterebbe ora per vincere il campionato. Il turnover di Rossi regala una maglia da titolare a Di Quinzi e Personè per Garavelli e Ferrario con Varricchio e Gentile ancora out. L'andazzo si intuisce subito perché già al secondo Serafini impegna Rossi in diagonale, poi dopo altri 12 minuti di dominio ospite un errore in disimpegno di Sentinelli innesca la velocità di Cozzolino trattenuto in area da carretto. Rigore e secondo giallo per il difensore un record in meno di un quarto d'ora. Dal dischetto Serafini con il Brescia autore di una tripletta alla Juventus nel 2007 in Serie B non sbaglia e inaugura una giornata da dimenticare per la squadra di Rossi che inserisce passero per personè e assiste allo show della Propatria. I tre davanti danno spettacolo e aprono in due una difesa cunese stranamente in barca. Al ventesimo Rossi salva su Cozzolino che però al quarantesimo lo fa secco con un diagonale chirurgico dopo aver saltato Donida su un assist al bacio di Garrone. Al quarantatresimo il primo tiro verso la porta del Cuneo una girata alta senza pretese di Fantini prima che Serafini sfiori il palo allo scadere. Nella ripresa Rossi non rischia le due punte ed allora per inserire Ferrario toglie Fantini ma la solfa non cambia. La Propatria la incarta ai Biancorossi con il suo fraseggio e al quindicesimo fa Tris con Cozzolino che serve a Serafini una palla da spingere in porta. Solo il palo nega la tripletta al capitano ospite dieci minuti dopo. La Propatria si diverte Garrone sembra Messi e ci prova in tutti i modi. Dall'altra parte arrivano due sussulti con il colpo di testa alato di Sentinelli su cross di Garavelli e la botta di Passerò. Match da dimenticare. Match da dimenticare perché è stato affrontato la Propatria in condizioni non buone della nostra formazione. Ma prima di venire in studio io farei ancora vedere gli highlights se la regia è pronta possiamo vedere poi sentiremo le interviste e poi commenteremo sia in questo blocco che in secondo blocco perché questa settimana ci sono state due partite e ne vogliamo far vedere tutte e due. Se la regia è pronta possiamo andare. con il numero 13 a Cari con il numero 14 passerò con il numero 15 a Tre con il numero 16 a Cavendini con il numero 17 a Chirico con il numero 18 a Perlario buona partita a tutti e forza a Cuneo! Andrei quando vuoi di penalità insomma è un'ottima squadra adesso il Cuneo che prova a far girare palla Sentinelli che viene in avanti c'è questo sbagliato attenzione siamo presi in mezzo siamo messi male e ancora è Cozzolino è calcio di rigore e c'è il rosso espulso Carretto calcio di rigore riprendiamo con Serafini che va a sistemare la palla dal dischetto ed è parte Serafini e c'è il gol Propatria 1 Cuneo 0 Propatria questo lancio e attenzione Cozzolino se la deve vedere con e c'è il gol 2 a 0 Lodi è Lodi che manda questa palla e c'è questo tocco di Sentinelli vediamo cosa cosa intende fare parte un bellissimo cross a cercare e c'è il tiro di Fantini e non è riuscito però a dosare la palla alto sulla traversa il lancio a servire ancora Serafini colpo di testa di e attenzione veramente e c'è il gol 3 a 0 però insomma qui è da rivedere Sentinelli per Cristini Ferrario l'apertura ancora per Passerò parte un cross a raso a terra attenzione Garavelli parte un cross è il colpo di testa di Sentinelli stavolta ha giocato bene la nostra un paio di azioni ecco parte questo cross l'ha parato ha parato e da rivedere poi bene noi ci sentiamo domenica per un'altra partita contro il Bellaria il primo jolly l'abbiamo buttato adesso veramente non bisogna più buttare via niente per cercare di stare aggrappati alla classifica complimenti alla formazione lombarda che ha giocato e ha vinto meritatamente buona serata a tutti insomma buona serata mica tanto no Davide perché insomma ha vinto meritatamente però anche noi non abbiamo giocato sicuramente noi abbiamo aiutato a fare questa prestazione tra virgolette super con con una nostra mediocre il risultato dice tutto non possiamo richiminare sicuramente contro la propatria beh Nino questa prima partita l'abbiamo vista insieme eravamo tutti d'accordo una propatria che era nettamente superiore alla nostra formazione domenica scorsa no? sicuramente è stato un approccio diciamo sbagliato alla partita ho mai visto i giocatori così di bianco rossi molli poco reattivi o cosa sono entrati in campo forse troppo tranquilli la propatria ne ha approfittato però rivedendo la partita ieri sera della propatria come dice giustamente Sentinelli noi sicuramente mercoledì scorso li abbiamo aiutati perché ieri sera c'è trovato una squadra che giocava hanno avuto anche il loro penale benissimo allora noi siamo in chiusura di primo blocco state con noi rientreremo sentiremo anche un paio di interviste e poi vedremo anche gli highlights e il servizio per quanto concerne Bellari e poi potremo commentare state con noi noi ritorniamo immediatamente bene è la volta di vedere e sentire più che altro le interviste nelle dopo partita con la propatria sentiremo anche lo sfogo di Massimo Bava poi nell'ultimo blocco parleremo anche di Massimo Bava perché ci sono delle novità molto importanti se la regia è pronta possiamo andare siamo con Ezio Rossi allora Ezio Vittoria Alecco sconfitta in casa oggi contro la propatria 3 a 0 veramente ci stava tutta perché oggi Cuneo forse non era anzi senza forse non era il solito Cuneo è la prima volta che vediamo un Cuneo al di sotto veramente delle sue possibilità 10 uomini dopo 15 minuti del primo tempo forse un paio di decisioni arbitrali un po' così però insomma Cuneo oggi proprio non c'era in campo no non siamo scesi in campo primi 15 minuti come hai detto te ma forse anche per mezz'ora almeno non siamo scesi in campo non è la prima volta che ci capita per cui dobbiamo fare un esame di coscienza e non pensare che quando vinci una partita hai risolto i problemi o vada tutto bene io ho detto che i risultati si vedono alla fine del campionato non è che bisogna vivere di gloria perché uno fa un gol fa una buona prestazione una domenica poi la domenica dopo non scende in campo per cui tutti insieme io mi metto per primo che devo dargli sicuramente una svegliata fargli capire che per vincere i campionati o provare a vincere bisogna avere un'altra mentalità con questa mentalità qua si arriverà a quinti sesti non lo so e i playoff si giocano in maniera diversa invece noi siamo troppo spesso siamo mancati quando dovevamo fare il salto anche oggi avevamo l'opportunità di fare un altro passo avanti in classifica e non è la prima volta che ci capita che proprio quando abbiamo questa opportunità le manchiamo vuol dire che per adesso non abbiamo ancora capito tutto tra l'altro hai provato a sostituire Fantini tra il primo e il secondo tempo è entrato a Ferrario lo stesso gioco e proprio oggi oltre a giocare in dieci che ripeto cos'è che è mancato? che abbiamo giocato in tre non abbiamo giocato in dieci questo è il problema e purtroppo i tre spesso vengono a mancare magari se vengono a mancare delle pedine importanti perché magari non imbroccano la partita sicuramente noi facciamo fatica oggi ma non è la prima volta ripeto Borgo Bugiano Bellaria l'andata adesso me ne vengono in mente qualcun'altra Poggi Bons in casa no no San Bonifacio no perché San Bonifacio l'abbiamo persa nel finale ma quella era una partita diversa però noi 4-5 occasioni che abbiamo avuto per fare il saltino per fare ancora meglio di quanto stiamo non è che stiamo facendo male ma io dico che dobbiamo darci una regolata se possiamo visto che abbiamo 42 punti possiamo provare a lottare fino alla fine per vincere questo benedetto campionato dobbiamo sicuramente migliorare sotto l'aspetto mentale perché è solo la testa che non è collegata perché poi quando vogliamo giocare abbiamo dimostrato che non siamo secondi a nessuno abbiamo perso contro una grande squadra abbiamo perso contro la squadra che è la coppia di attaccanti secondo me migliore del campionato una squadra che gioca un bel calcio secondo me per cui abbiamo qualche attenuante ma quello che a me scoccia è che si può perdere ma si può perdere dimostrando di avere il cervello attaccato alle gambe siamo con Massimo Bava direttore generale del Cuneo direttore oggi non ho visto il Cuneo in campo c'era o non c'era? no no abbiamo giocato male secondo me magari può essere un paradosso primi sette minuti essere in dieci con errore tecnico comunque un po' ci ha penalizzato perché se lui sull'1-0 butta fuori i Serafini su doppia munizione magari perdiamo 5-0 lo stesso però sono degli errori tecnici che comunque degli arbitri dopo dieci minuti un quarto d'ora visto che ha dato un rigore non lo so io non ero troppo lontano non lo posso giudicare una doppia munizione ha munito Sentinelli per una palla che era a 40 metri e non manunisce non dà la doppia munizione a Serafini sull'1-0 poi ripeto possiamo perdere anche 5-0 ma l'errore tecnico è grave poi dopo in più ci mettiamo che il Cuneo non c'era perché comunque io ripeto che noi dobbiamo cercare di non avere espulsione non avere tutto quanto munizioni carretto espulso e Sentinelli a munito non lo vogliono capire questa era un'occasione di poter per la prima volta in sei anni di Lega Pro essere il primo sono un po' mareggiato perché secondo me non è tanto ripeto perdere possiamo perdere abbiamo perso col Poggi Bonzi abbiamo perso con Rimini abbiamo perso con la Pro Patria in casa tre partite però non abbiamo quel guizzo per una volta ci lamentavamo del portiere adesso sembra che il portiere l'abbiamo preso che sia di categoria una volta ci dimentichiamo una cosa io dico che è meglio che tirano un po' tutti sui pantaloni che siano concentrati non a pensare a tanto vinciamo perché comunque siamo una buona squadra ma bensì di essere concreti e soprattutto continui che noi non siamo in grado di essere continui noi mentalmente non siamo continui Allora siamo con Serafini inutile dire che avete disputato un incontro ottimo avete conquistato tre punti a Cuneo secondo te il risultato è venuto fuori così lampante dopo l'espulsione di Carretto oppure veramente vi state mettendo sotto tutti quanti No senza dubbio gli episodi nel calcio moderno sono fondamentali c'è stato questo infortunio fra virgolette se così si può chiamare del difensore centrale può capitare l'arbitro non poteva che mandarlo fuori poi noi siamo riusciti a gestire meglio la palla di altre partite e loro magari sono andati sicuramente in difficoltà perché magari si aspettavano che iniziassimo magari più da dietro a tirare qualche palla lunga invece siamo stati bravi a farli uscire per poi colpirli in contropiede Beh queste erano le parole del dopo partita del Cuneo pro patria logicamente Davide hai sentito lo scoramento anche di sia di Rossi che di Massimo Bava insomma sei d'accordo su quanto hanno detto? Non si può che essere d'accordo purtroppo il risultato è quello che è stato la restazione anche come dicevo prima abbiamo fatto una brutta partita quindi giustamente il mister dice che ogni volta che abbiamo l'occasione per fare il salto di qualità non la cogliamo questo è vero è successo in diverse occasioni questa volta si è avuto già per due volte sia col Bellaria che con la Propatria quindi dobbiamo sicuramente crescere da questo punto di vista stiamo lavorando in settimana appunto per per far sì che queste cose non si ripetano Allora prima della sosta giocavasi in un certo modo dopo la sosta causa neve quello che vuoi non è più il solito cuneo è questione di mentalità oppure c'è anche il fisico che ne risente un po' No mentalità non credo io penso che il gruppo è unito per l'obiettivo che si è proposto nello spogliatoio che è di fare sempre bene di vincere ogni partita il fatto che non ci siamo potuti allenare bene per tre settimane causa neve sicuramente è inciso nella condizione fortunatamente o sfortunatamente è capitato un periodo dove tutti quanti non stiamo benissimo e abbiamo raccolto poco e niente speriamo già da mercoledì visto che il tempo sta migliorando di ritrovare quella brillantezza che avevamo prima di Natale Ok allora intanto della partita con l'Alessandria domani ne parleremo nell'ultimo blocco Nino prima di mandare il servizio sulla partita dell'Alessandria un cuneo che ha fatto vedere come abbiamo detto un girone di andata travolgente e ha iniziato in sordina perché anche a lei non si è giocato benissimo ma si è vinto Sicuramente il fatto che le copiose nevicate non hanno permesso di allenarsi come si deve è stato un fattore molto determinante palestra sotto il pallone o cosa i giocatori sicuramente per giocare a calcio devono allenarsi sui terreni di gioco devono riprendersi pian pianino sicuramente si parleranno a quattro occhi negli spogliatoi e sicuramente riusciranno nuovamente a far vedere quello che avevano fatto nel girone di andata perché sicuramente riusciranno ad avere di nuovo quella condizione fisica che avevano nel girone di andata Bene è la volta di vedere il servizio adesso sulla partita con Bellari è il servizio curato da Trassino Federico e da Mattio Samuele se è pronto il servizio possiamo andare A quanto pare il carnevale non è la festa preferita da Fantini e compagni già perché il carro guidato da Ezio Rossi non ha trovato grandi fortune nella settimana dei festeggiamenti mascherati il tonfo interno maturato contro la Propatria mercoledì è stato bissato con il Bellaria proprio nel match che doveva essere una sorta di riscatto gli ospiti partono forte e si fanno preferire i biancorossi perlomeno fino al gol di Cristini che arriva al 22esimo cross al bacio di Garavelli dalla sinistra e colpo di testa del Robin Hood di Pinerolo che con questa marcatura si porta a quota 9 gol in questo campionato superando il proprio record personale di Otto Reti stabilito lo scorso anno con la maglia del Canavese il gol risveglia il Cuneo che trascinato da uno scatenato Garavelli sfiera il raddoppio in più di una circostanza sia con lo stesso Fantasista sia con l'ex Monza Ferrario proprio mentre la partita sembra essersi incanalata sui binari giusti per i locali nel finale di primo tempo arriva una doppia doccia fredda al 43esimo Decenco approfittando di un'uscita accelerata di Rossi lo supera con un pregevole pallonetto al 46esimo è invece Fioretti a capitalizzare al massimo un cross della tre quarti di Mariani deviando di testa alle spalle del portiere locale e l'1 a 2 i biancorossi vanno così negli spogliatoi con il morale sotto i tacchi morale che non migliora rientro in campo perché un potente tiro di forte sigla l'1 a 3 e Zio Rossi butta nella mischia Fantini l'extraterrestre ci mette il solito impegno ma non basta il suo unico tentativo arriva al 23esimo con un tiro alto per il resto ci provano anche il neo entrato Beretta Varricchio e il solito Cristini ma invece che accorciare le distanze il Cuneo rischia di prendere anche il quarto gol se non fosse per Donida che salva sulla linea di porta su Scarponi quando i Romagnoli sono già in 10 per il doppio giallo a forte al triplice fischio se ne aggiunge qualcun altro dalla tribuna probabilmente proveniente da qualche smemorato che si è dimenticato quanto di buono fatto finora da una squadra che da neopromossa è al quarto posto in classifica beh questo era sicuramente il servizio dedicato al Bellari è una partita come abbiamo detto diversa da quella della propatria però un Cuneo che ancora una volta non ha saputo venire fuori da una situazione piuttosto difficile ma presupposti come ha anche detto nel servizio ci sono stati nella versione del girone di andata quindi non bisogna mai dimenticare quello che si è fatto siamo una matricola quarti in classifica generale a 6 punti dalla prima non è che siamo a 25 punti dalla prima quindi ci sono tutti i presupposti per cercare di ritornare a vedere il Cuneo giocare nuovamente bene al Paschiero e non soltanto al Paschiero detto questo noi ci fermiamo per il secondo blocco rientreremo più presto possibile state con noi eccoci nuovamente insieme per questo terzo blocco dedicato al cuore bianco-rosso blocco dedicato quasi interamente all'intervista con i protagonisti con Massimo Bava con Ezio Rossi per quanto concerne la partita con Bellaria vorrei che ascoltaste bene quello che ha da dire Massimo Bava poi come ho detto poc'anzi nell'ultimo nell'ultimo blocco parleremo anche di lui perché ci sono delle novità se la regia è pronta possiamo andare con l'intervista oggi secondo me il primo tempo fino al quarantesimo del primo tempo quando è stato quello svarione di Rossi purtroppo ha avuto quell'uscita che non felice fino al quarantesimo il Cuneo secondo me stava giocando bene e poteva anche chiudere la partita sul 2-0 secondo me quello che poi dopo abbiamo abbiamo patito noi siamo una squadra debole una squadra debole nel senso ma di personalità noi appena le cose ci girano un po' storte ci piangiamo addosso quattro tifosi che gridano andate a lavorare non siamo una squadra spessa anche a livello di personalità una squadra spessa cerca di ribaltare la partita in maniera cattiva ma cattiva sportivamente con o il bel gioco o con le cattive maniere noi invece siamo belli a vedere però purtroppo siamo stati poco prolifici nel nostro sviluppo del gioco però è un momento che ci gira un po' stotto non stiamo facendo bene abbiamo alcuni giocatori che ci tengo a precisare che sulla sostituzione di Garavelli è stato insultato Ezio Rossi Garavelli aveva 39 di febbre fino a ieri sera per cui quando uno deve insultare qualcuno dalla tribuna è meglio che prima si informi Garavelli ha chiesto il cambio per uscire perché non ce la faceva più perché fino a ieri sera tra i 38 e i 39 e ha chiesto il cambio perché anche Ezio Rossi non l'avrebbe sostituito per cui poi ci sono state le squalifiche di Carretto ma questo non vuol dire niente vuol dire che è un momento negativo e dato che a me personalmente mi danno fastidio io odio i tristi nella vita quando le cose non vanno bene a me piace alzare la testa e camminare e guardare gli altri cosa che invece molti non fanno allora noi adesso dobbiamo alzarci camminare abbiamo 42 punti la prima ne ha 48 siamo quarti in classifica se arriviamo nei playoff a fine anno siamo contenti se vinciamo siamo stracontenti se ci salviamo era il nostro obiettivo però tutto quello di brutto che c'è stato adesso cerchiamo di dimenticarci però mi piace le persone che si alzano e ricamminano non le persone che comunque buttano via tutto quello che hanno fatto nell'arco dei mesi precedenti per cui comunque ci dobbiamo svegliare tutti dobbiamo dare di più tutti dal primo da sottoscritto all'addetto stampa alla responsabile del marketing alla signorina che lavora con noi a tutti quelli che dobbiamo dare di più per cercare di centrare un obiettivo che a fine anno magari saremo anche contenti ma non piangerci addosso benissimo questo ci rinfranca un attimino perché eravamo un po' tutti scorsi anche perché insomma perdere ci sta però prendere sei gol in quattro giorni sono un po' tanti noi stiamo giocando male ci sono stati dei momenti che giocavamo bene e adesso ci sono dei momenti che stiamo giocando male non c'è nessun problema a dire quando le cose non ti girano quando le cose magari ti accorgi che ci sono delle scelte fatte che magari in quel momento sono sbagliate o degli errori fatti che ci sono devi ammetterli ma con questo non vuol dire che tutto quello che ha fatto il Cuneo lo buttiamo a mare assolutamente è un momento che secondo me non stiamo facendo bene ma ci sono stati anche dei momenti che facciamo bene per cui cerchiamo di prendere visione di quello che stiamo facendo che magari possiamo anche correggerle in corsa siamo ancora in tempo ne mancano mi pare 13 partite a memoria per cui il Presidente tra l'altro ci tengo a precisarlo per televisione perché meno così venerdì ha chiarito a tutti a tutti che il Cuneo Calcio è solito sano e continuerà per i prossimi anni la categoria sarà anzi sarà vista a fine anno se ci sarà un tre gironi ci saranno due gironi o perdono tre gironi con una serie C unica o meno per cui vorrei anche svuotare e anche smentire varie frasi che magari uno dice alcune non ce la fa il Cuneo il Presidente è la prima persona che dice se c'è da andare a fare la C o la Lega Pro unica la facciamo perché abbiamo i mezzi e abbiamo le possibilità senza mai sforare dal bilancio che abbiamo per cui vorrei una volta per tutte non stiamo tirando i freni a mano assolutamente smentito categoricamente per cui noi vogliamo cercare di fare meglio possibile e portare gente più possibile allo stadio però gente positiva e non negativa tu lo sai benissimo che negli stadi entra la gente positiva e la gente negativa sta a voi e a tutti quanti essere positivi i negativi ci sono sempre stati e sempre ci saranno detto questo parliamo della prossima partita che sarà contro l'Alessandria nuovamente mercoledì in casa è il nostro secondo giolli dobbiamo saperselo giocare bene l'Alessandria sarà un avversario scorbutico sicuramente arrivano poi loro hanno la fortuna di avere secondo me uno degli stadi più caldi del Piemonte lo continuo a dire e anche Vercelli per cui sono risaliti sono carichi ieri sera non l'ho vista la partita però mi hanno detto che hanno fatto una partita ottima hanno vinto contro Rimini che è una signora squadra verranno qua caricati però se siamo anzi se abbiamo dei giocatori abbiamo una società abbiamo qualcuno alle spalle con degli attributi magari noi mercoledì perderemo magari non perderemo così o magari faremo una prestazione al di sopra delle discussioni di qualche d'uno però io sono convinto che l'amor proprio di tutti quanti verrà fuori a partire dal Mista a partire di tutti quanti probabilmente mercoledì se siamo concentrati poi l'Alessandria è un momento positivo magari la vincerà però gli dovremo far trovare lungo Cos'è che non ha funzionato oggi? Una partita diversa diversa da mercoledì dove la squadra almeno l'atteggiamento ce l'ha avuto diverso sicuramente non remissivo come mercoledì sapevamo che a livello psicologico era una partita difficile primo tempo giocato come si doveva anche se abbiamo sempre concesso le nostre solite due palle goal però siamo riusciti a superare in denne un primo periodo non proprio brillante la partita poi con il gol di Cristini sarà incanalata nel modo giusto e poi niente continuiamo a commettere gli errori difensivi evidenti e credo che bisogna cambiare qualcosa ecco un primo tempo che praticamente avevamo iniziato direi piuttosto bene segnando un bellissimo gol con Cristini e poi è venuto fuori quell'erroraccio da parte di Rossi e lì è stato un po' il punto in cui noi dopo abbiamo smesso di giocare a calcio ma c'è stato questo 1-2 in due minuti sicuramente non solo il primo errore però io analizzo gli errori che si fanno si fanno troppi errori cioè la nostra difesa ogni ogni partita rischia di prendere dei gol non ha mai dato un senso di solidità lasciamo troppo spazio agli avversari a volte anche dentro l'area purtroppo non stiamo difendendo come dovremmo io credo che il gol più esemplare del nostro modo di difendere è il terzo gol dove in area hanno potuto fare quello che volevano finché hanno scaricato un pallone a un giocatore e siamo stati forati però non bisogna guardare solo i gol presi è chiaro il primo c'è stato un errore abbastanza evidente però sono gli errori che rischi di prendere perché noi purtroppo con l'ecco per dire abbiamo vinto 2-0 magari all'interno sembra che vada tutto bene ma io so che abbiamo comunque anche l'ecco concesso 3-4 palle gol e questo non va bene bisogna ci devo pensare io io sono allenatore e vedremo siccome fino ad oggi abbiamo giocato in una certa maniera e credo abbiamo preso aiutatemi voi più di 30 gol quasi ecco 33 gol quasi 2 gol a partita un gol e mezzo a partita dovrò trovare delle soluzioni diverse a quelle che ho provato fino ad oggi più facile del previsto no no come ripeto loro sono un'ottima squadra poi anche tutte queste partite ravvicinate così noi poi eravamo in carica abbiamo fatto tutto bene e quindi alla fine alla fine se devo dire solo l'unica cosa che gli ultimi 10 minuti visto che il Cuneo proprio ha mollato proprio non ci ha più provato e niente sul 3-1 e lì abbiamo avuto la consapevolezza ci siamo chiusi bene rimanendo in 10 e alla fine l'abbiamo portata a casa siamo con Enrico Fantini Enrico allora sono due partite che il Cuneo perde piuttosto malamente no contro la Propatria veramente è stata una grande squadra la loro e contro il Bellaria abbiamo perso meritatamente ma era una squadra che potevamo sicuramente essere giocare meglio per cercare di portare a casa l'intera posta abbiamo iniziato bene poi ci siamo persi sì diciamo che darti una risposta in questo momento è difficile perché comunque hai detto tutto te posso soltanto dirti che è un momento che bisogna alzare la testa bisogna prendere coraggio avere coraggio di giocare a calcio senza scappare da chi porta la palla ma farsi vedere ed essere disponibili e soprattutto ricreare quella mentalità positiva che in questo momento con queste sconfitte sicuramente è difficile avere e queste erano le interviste nelle dopo partita come avete sentito sia Lezio Rossi che Massimo Bava hanno messo il dito sulla difesa che prende troppi gol effettivamente sono tanti Davide cosa succede? I numeri parlano chiaro 30-35 33 gol subiti sono tanti sono tantissimi se andiamo analizzare tutti sempre per motivi diversi il mister sta lavorando abbiamo lavorato oggi in soluzioni diverse e speriamo di trovare il motivo giusto nel senso dobbiamo cercare sicuramente di prenderne di meno perché a farne ne facciamo tanti forse siamo il primo o il secondo attacco quindi se riuscissimo ad abbassare questo margine d'errore faremo sicuramente molto meglio Nino ma sicuramente il Cuneo che è una squadra che diciamo sta ambisce all'alta classifica c'è una discordanza fra l'attacco che il secondo attacco del girone con 40 retti dietro solo al San Marino con 46 e il punto pesante invece sono quei 35 gol che ha preso il Cuneo certi gol evitabilissimi e sicuramente Ezio Rossi cercherà di lavorare sulla fase difensiva perché sulla fase diciamo dall'attacco non può dire nulla ma però la fase difensiva deve anche essere coperta diciamo da centrocampisti più decisi e più diciamo più con grinta a metà campo e questo te ne do pienamente alto noi siamo in chiusura anche di questo terzo blocco due minuti torniamo immediatamente per l'ultimo blocco e sentiremo anche delle novità stasera è passato velocissimo infatti pensavo che durava di meno infatti ho detto forse non cambia qualcosa invece non arriva eccoci per l'ultimo blocco dedicato a questo cuore bianco e rosso che batte per la nostra squadra una formazione che è un po' in debito d'ossigeno però insomma bisogna stare vicini bisogna cercare di superare questo momentaccio chi ce l'ha prima chi ce l'ha dopo chi ce l'ha adesso insomma le squadre più o meno un momento di appannamento ce l'hanno tutti no Davide? sì purtroppo ce l'hanno tutti ma sono sicuro che il nostro gruppo è un gruppo forte che riuscirà a uscirne fuori da grande squadra come abbiamo dimostrato fino a poco tempo fa siamo gli stessi giocatori che fino a qualche mese fa il pubblico esaltava continueremo sicuramente in questo noi ci impegniamo tutti i giorni in allenamento entriamo in campo vogliosi di vincere ogni partita purtroppo adesso è un momento no come dicevo ma usciremo sicuramente da questo sicuramente anche da domani vedrete un altro cuneo beh e questo è quello che ci auguriamo tutti no Nino? domani saremo presenti a vedere domani quando scenderà l'Alessandria non dimentichiamo che l'Alessandria è dal 1990 che non viene più il Paschiero fu l'anno che insieme alla Mazzese passò in Serie C1 e nell'Alessandria giocavano due giocatori bianco-rossi e c'è giocatore che poi vestirono la maglia bianco-rossa vale a dire Mazzese e Dino Galparoli che giocato nell'Udinese sicuramente l'Alessandria non lascerà nulla d'intento per cercare di portare via l'intera posta in palio ma sappiamo sicuramente che il cuore bianco-rosso domani reagirà e farà una grande partita beh questo è un bel augurio intanto Davide avere Nino Calipo con noi è come avere un po' di enciclopedia no? del calcio di queste categorie beh insomma il bello del campionato che stiamo facendo è anche questo che la prima può vincere contro tutti ma l'ultima può anche vincere contro tutti è un campionato molto livellato ogni partita a sé abbiamo visto anche la propria che con noi ha fatto una passeggiata diciamo che ieri ha sofferto molto con il Treviso che era in un momento un po' particolare questo a dimostrare che con tutte le squadre c'è da soffrire non bisogna mai abbassare la guardia tra l'altro poi non dimentichiamo che squadre come il Casale che è in testa alla classifica ha perso col Bellari anche lui in casa 2-0 ha perso contro il Lecco a Lecco o ha pareggiato adesso non mi ricordo più quindi ci stanno tutte queste queste cose che noi abbiamo detto detto questo se la regia è pronta vogliamo vedere la grafica per il prossimo turno ricordandovi che domani però c'è una partita di recupero la seconda quindi il nostro secondo giolli da poterci giocare in casa contro l'Alessandria alle 14.30 allo stadio Fratelli Paschiero di Cunea ecco la grafica allora Borgo Abugiano Lecco Giacomense Entella Montichiari Sant'Arcangelo Renate Casale San Bonifacese Poggi Bonsi San Marino Cuneo Savona Mantua Treviso Alessandria Valenzana Propatria e Bellaria Remini anche qui ci sarà niente da scherzare perché andremo ad affrontare domenica prossima il San Marino e il mercoledì perché sarà un altro mercoledì di campionato andremo di nuovo a Sant'Arcangelo quindi due trasferte consecutive molto impegnative no Davide? Sì il San Marino forse è la squadra più in forma di questo inizio di giorno di ritorno sarà una partita difficile ma come dicevo prima stiamo cercando di lavorare per trovare soluzioni diverse e vedremo i risultati già da domani sono sicuro beh dopo il brutto viene il bello no Nino speriamo che ci dicono che c'è il sereno insomma io ho detto che appunto il Cuneo con le grosse squadre ha sempre fatto delle grosse partite se c'è quella partita sparsa malamente e sfortunatamente con Rimini contro le grandi del campionato il Cuneo ha sempre detto la sua parola quindi il San Marino sicuramente il Cuneo alzerà la testa e darà battaglia alla squadra del Monte Tiziano ok beh detto questo allora possiamo parlare adesso di Massimo Bava stasera sembra una puntata dedicata a Massimo Bava ma non è così perché oggi proprio le ultime notizie danno che Massimo Bava diventerà il direttore generale del settore giovanile del Torino e chiaramente non gli facciamo un sacco di auguri ma tutti si chiedono a questo punto come sarà la dirigenza del Cuneo come si andrà ad affrontare beh diciamo subito che lui ha detto che porterà a termine fino al termine del campionato in qualche modo questa sua carica e è iniziato un progetto un progetto che continuerà io avrei avuto la possibilità di sentire Massimo Bava questa sera ma non per motivi tecnici e per motivi di tempo non possiamo sentirlo ma domani sarà presente allo stadio quindi faremo le nostre interviste se voi ci seguirete nei telegiornali e vi faremo sapere su quanto dirà Massimo Bava Davide un direttore generale del Cuneo che va a fare il direttore generale del settore giovanile del Toro cosa possiamo augurarvi e cosa pensate voi giocatori? intanto diciamo che sono venuti il presidente e il direttore a parlare alla squadra rassicurandoci sul futuro immediato della stagione quindi sicuramente fino a giugno terranno per la squadra e porteranno avanti questo progetto per il direttore sicuramente tanti auguri perché comunque sia una cosa bella andare in una squadra professionista come il Torino poi lui so che è di Torino quindi sicuramente avrà un valore aggiunto per noi sicuramente sarà una perdita importante il direttore è un uomo di calcio che sa tanto e per noi ha fatto tanto quest'anno ha portato molta professionalità in questa società che veniva dai dilettanti e che è sotto gli occhi di tutti quindi sicuramente per il cuno sarà una perdita ma la società come ha detto anche il presidente la scorsa settimana andrà avanti anche senza il direttore eventualmente anche perché gli uomini in casa Cuneo ci sono per portare avanti questo discorso no Nino? sì sicuramente è una perdita grave per il Cuneo perché Massimo Bava da quanto ha fatto quest'anno ha fatto delle grosse cose si è sempre dimostrato l'altezza della situazione portando la società direttantistica come il Cuneo a livelli professionistici ci auguriamo che riesca a fare ancora di più e ancora meglio nel Torino perché in effetti il suo merito tra l'altro poi dicevo in società abbiamo anche un direttore tecnico che fino prima dell'arrivo del direttore generale Walter Vercellone è stato uno dei promotori di questo Cuneo un Walter Vercellone che vi è sempre vicino Davide? sì il direttore è sempre al campo lo incontriamo spesso quindi lui è sempre vicino il direttore generale Bava non può sicuramente per i molti impegni che ha quindi non non è sempre presente ma si fa sentire con telefonate o con appuntamenti in sede quindi diciamo che la società è vicina alla squadra in tutto e per tutto anche in questo momento di difficoltà poi sarà direttamente il presidente a valutare le persone giuste per continuare questo progetto ambizioso perché ricordiamo che il Cuneo è un progetto ambizioso iniziato da quello che ho capito 3-4 anni fa con l'avvento del presidente Rosso quindi non credo ci siano problemi per il Cuneo Calcio come ci ha detto anche lui direttori, giocatori allenatori vengono e vanno ma la società rimane sempre tra l'altro poi l'abbiamo sentito proprio Bava nell'intervista dove diceva che il progetto è un progetto importante un progetto che sicuramente continuerà perché insomma anche nell'intervista che abbiamo sentito nello sfogo di Massimo Bava nel dopo partita col Bellaria diceva appunto che la società è molto forte una società che è con i giocatori è con la dirigenza comunque una società che non vi ha mai fatto mancare nulla mi pare assolutamente no forse da quando gioca a calcio questa è una delle delle società più serie che ho incontrato e mantiene gli impegni con grande puntualità con grande professionalità quindi diciamo che almeno per quanto mi riguarda a alcuni o calcio gli si può solo dire grazie la città anche penso sia vicino a questa società e è presente sotto gli occhi di tutti della professionalità e delle ambizioni di questa squadra ecco Davide tu sei uno che hai girato tante società e perché hai giocato ad altissimi livelli ecco vivere a Cuneo cosa significa per un giocatore di calcio Cuneo è una bellissima città io mi ci trovo benissimo anche con la neve anche con la neve perché io vengo da Roma e di neve ce n'è poca niente solo quest'anno avete avuto qualche problema proprio per non farla mancare da nessuna parte qui si sta benissimo è una città ricca le persone sono fantastiche e noi ci troviamo bene io e la mia famiglia vorremmo rimanere qui a lungo diciamo tra tutte le città d'Italia che abbiamo incontrato quella che si avvicina di più forse è Como quindi diciamo queste due sono le due città che mi sono rimaste nel cuore quindi quando smetterai tra virgolette più tardi possibile di giocare a calcio potresti vivere o a Cuneo o a Como beh a Cuneo alcuni compagni stiamo aprendo un'attività quindi sicuramente i presupposti per rimanere ci sono un'attività possiamo già anticipare qualcosa una caffetteria insieme ad altri quattro compagni questa è una cosa molto buona no Nino quando succedono queste cose giocatori che mettono insieme le loro forze per poter pensare al dopo al dopo al dopo calcio no? è giusto che sia così non Nino sì sicuramente è un'ambizione che uno ha dopo aver giocato a calcio di poter continuare a vivere meglio e anche di avere diciamo una certa professionalità allora in 30 secondi possiamo dire chi sono i tuoi compagni o è ancora tutto tabù? no 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 lo sanno diciamo una squadra già lo sa tutta quindi è Cristini Longhi Garavelli e me stesso ah bene è un'attività che si aprirà a poco tempo sì nell'arco di un mese dovremmo dove? così facciamo un po' di pubblicità via Carlemone del Terzo qui dietro quindi nel centro di Cunea sì perfetto detto questo possiamo ringraziare Davide Sentinelli da una serata un pochettino così l'abbiamo fatta diventare un pochettino più perché tra l'altro non bisogna mai essere distruttivi ma bisogna cercare sempre di dare un qualcosa in più alla squadra per cercare di venire fuori da queste situazioni piuttosto complicate situazioni che andiamo a ribadire da domani contro l'Alessandria dovrebbe essere diversa grazie di essere stati con noi grazie a Davide Sentinelli grazie a Nino Callipo noi ci sentiamo la prossima puntata e avremo penso Massimo Bava nei nostri studi per commentare insieme la sua decisione grazie di essere stati con noi e buona continuazione con GRP Televisione con GRP Televisione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti